L'Organa dei Girasoli è un ristorante a Roma, ma è anche un luogo meraviglioso di integrazione e promozione sociale, dove tante ragazze e ragazze hanno trovato un modo di vivere a testa altissima, perché sono i protagonisti di questa impresa. Purtroppo rischiava di chiudere nel silenzio generale per problemi burocratici o finanziari e abbiamo capito che non poteva accadere, perché la politica, le istituzioni, il governo deve fare soprattutto questo, non far sentire sole le persone che hanno bisogno. Quindi grazie all'Arsial, grazie alla regione e soprattutto a chi ci ha lavorato, la locanda dei Girasoli non chiuderà più e questo permetterà a questo gioiello di Roma di continuare a vivere e ad esistere in questa città. Io sono contento perché Roma è anche questo. Grazie a tutti.